Saadi, famoso poeta persiano, ottocento anni fa scriveva, gli esseri umani sono nati dalla stessa perla, eterna poesia per l'umanità. Per Man Tadayon ne ha composto una canzone e in questo momento di difficoltà per la cultura e per lo spettacolo ha invitato, in collaborazione col Teatro Biondo di Palermo, musicisti di diversi paesi del mondo a cantarlo e a suonarlo. Alireza Gorbani, famoso interprete iraniano, lo ha cantato nella lingua originale, ovvero il farsi, mentre Bungaro e Barbara Eramo hanno eseguito la versione in italiano. Saadi Shirazi. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.